Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video un po' particolare. Tengo molto a questo argomento e quindi ho deciso di condividerlo con voi con un video. Vorrei parlare dei tarocchi e degli esiti negativi che vengono fuori dalle stesure. In particolare vorrei darvi qualche piccolo consiglio per comunicare una brutta notizia a una persona che vi chiede un consulto di carte. Perché molto spesso magari una persona tiene tanto ad una persona, ad una situazione, si fa fare il consulto pieno di speranza, poi vengono fuori delle carte negative e dovete dire a quella persona che quello che lei desidera o lui desidera non accadrà, non si verificherà e quindi di fatto gli date una brutta notizia e le brutte notizie bisogna saperle comunicare. Quello che dovete sempre tenere presente quando fate le carte a qualcuno è che di fronte avete una persona che ha delle emozioni, dei pensieri, dei sentimenti e ogni persona reagisce in modo diverso, di fronte alla stessa cosa. Noi possiamo essere posti di fronte allo stesso stimolo ma reagire in modi completamente diversi e quindi questo dovete sempre tenerlo a mente, dovete essere delicati quando comunicate delle cose spiacevoli perché non potete sapere come la persona potrebbe reagire. E spesso il modo in cui una persona reagisce di fronte a una brutta notizia dipende dal modo in cui voi l'avete comunicata questa notizia. Quindi è importante secondo me pensarci, rifletterci e fare molta attenzione. E poi una cosa fondamentale che dovete fare è lasciare sempre alle persone la speranza, non dovete mai toglierla. Questo non significa mentire o dire delle cose che nella stesura non ci sono, però dovete sempre porvi mettendo comunque nella persona una speranza. Intanto perché le carte hanno una durata limitata, perché quello che esce da una stesura non è per sempre ma è comunque limitato a pochi mesi e questo dovete farlo presente perché questo dà una speranza. Voi potete dire in questo momento per i prossimi mesi io vedo questo, però non è detto che poi le cose non possano cambiare, quindi questo dà alla persona la speranza. Perché comunque i tarocchi non sono un verdetto definitivo, devono essere utili, devono essere una linea guida, devono comunque lasciare nella persona un qualcosa che possa attivare le sue risorse, non deprimersi e demoralizzarsi. Questo ovviamente va sempre tenuto presente. Detto questo però, quando siamo di fronte ad una stesura non troppo positiva, che ha degli elementi negativi e quindi dobbiamo comunicarlo alla persona, dobbiamo innanzitutto mantenere la calma, perché quando noi comunichiamo una brutta notizia a una persona, questa difficilmente riesce a mantenere al 100% la razionalità, soprattutto se è una cosa che magari lo ferisce parecchio, una cosa la quale teneva molto, una cosa che lo delude e quindi la persona potrebbe nella sua perdita temporanea ovviamente, però in un certo senso una perdita di razionalità, reagire in un modo che per voi è inaspettato e che vi spiazza, e quindi poi mette in difficoltà voi che state facendo le carte. Potrebbe arrabbiarsi, potrebbe mettersi a piangere, potrebbe accusarvi di non aver fatto bene le carte, potrebbe sminuire le vostre capacità, quindi andare a ferire magari il vostro orgoglio. E questo voi lo dovete tenere presente, perché dovete essere pronti a fare fronte a questo genere di reazioni. Quindi che cosa possiamo fare? Innanzitutto essere umili, quindi essere disposti al dialogo, essere aperti a magari anche rivedere qualcosa della lettura, rispondere in modo chiaro alle domande che vi fa, cercare di evitare di essere ambigui, e soprattutto non pretendere mai di avere per forza ragione. Quindi non dite mai, io ho fatto il consulto, esce questo, io sono bravissimo e non sbaglio mai, perché così irrigidite ancora di più la persona dall'altra parte, che potrebbe poi mettervi ancora più in difficoltà. Dovete essere empatici, quindi cercare di entrare in contatto emotivo con l'altra persona, capire quali sono i sentimenti che sta provando, senza però affogarci dentro. Quindi non dovete essere delle spugne che assorbono tutti i sentimenti dell'altra persona, dovete capirli, accettarli, non giudicarli, ed essere aperti comunque ad accogliere anche eventuali confidenze che la persona vi vorrà fare, cercando sempre di rassicurare, perché ricordate costantemente alla persona che vi sta chiedendo il consulto che le carte non sono un verdetto definitivo, e che le cose possono sempre cambiare in meglio. Poi dovete sempre motivare l'esito negativo, quindi non dovete dire questa cosa non succederà, punto e basta, ma dovete dire questa cosa non succederà perché ci sono degli elementi che impediscono a questa cosa di accadere. Vediamo insieme quali sono questi elementi, se necessario magari fare anche un'altra stesura per soffermarsi su quello, perché se voi date una motivazione della brutta notizia, aiutate la persona anche a trovare delle possibili soluzioni. Poi dovete ovviamente sottolineare gli aspetti positivi che ci sono nella stesura, quindi non soffermarvi solo su quelli negativi, perché magari a volte succede quando la domanda è specifica e la risposta finale è un no, oppure una cosa comunque negativa, capita qualche volta di soffermarsi un po' solo su quello. Invece dovete evidenziare molto bene anche gli aspetti positivi, perché sono quelli su cui la persona dovrà puntare per cercare di dare un corso diverso al suo futuro. Però cosa succede se la stesura è tutta negativa, perché magari escono delle carte che sono tutte negative, a volte può succedere. Allora in quel caso vi do un consiglio, estraete un'ulteriore carta che sia legata alla persona, quindi una carta proprio sulla persona, sulle sue risorse, sulle sue capacità, sulla sua personalità, e cercate di fare leva su tutti gli aspetti positivi che trovate, perché in quel modo mettete la persona in una posizione migliore, in una posizione di speranza, in una posizione comunque di autostima, perché fate capire che la persona ha delle capacità di un certo tipo, che è in grado di affrontare determinate situazioni, e in quel modo potenziando quindi l'autostima, le sue capacità riuscirete a farle assorbire questa brutta notizia in un modo sicuramente meno spiacevole. Poi in generale quando si comunicano le brutte notizie c'è un piccolo trucchetto che se volete potete utilizzare. Partite sempre dalle cose positive, quindi quando cominciate a raccontare quello che vedete nella stesura partite dalle cose positive. Anche se all'inizio della stesura c'è qualcosa di negativo, voi comunque sottolineate le cose positive. Poi arrivate a comunicare con delicatezza le cose negative, e poi concludete di nuovo con qualcosa di positivo, perché in questo modo la cattiva notizia viene recepita in un modo un pochino più dolce, perché comunque si fa leva anche sulle cose positive, e si mettono all'inizio e alla fine, in modo che l'essere umano, proprio la memoria dell'essere umano, riesca ad assimilarle di più. Detto questo vi faccio un esempio di una stesura che potrebbe essere negativa, in modo da darvi anche degli elementi guida e degli elementi più pratici. Facciamo l'esempio di una stesura specifica a tre carte, che si chiama stesura a catena del qui e ora. Questo significa che è una stesura che serve per vedere una situazione presente, una situazione attuale, non va nel passato e non va nel lungo futuro, ma solo nell'immediato futuro, o addirittura si ferma proprio nel presente. Serve quando bisogna chiarirsi un pochino le idee su una determinata situazione, quando magari si hanno dei dubbi, quando non si sa bene come agire nell'immediato, questa può essere una stesura utile. Si chiama catena perché si devono mettere tre carte e vanno lette in sequenza, da sinistra a destra, come se fossero degli anelli di una catena collegati tra loro, che non si possono spezzare. Si possono aggiungere anelli alla catena, quindi tirare fuori altre carte, però sempre in successione e mai spezzando la catena, mettendo magari una carta sopra o una carta sotto, ma vanno messe proprio in fila. Ed è un tipo di stesura che è perfetta per una coppia, per una situazione lavorativa, dove si vuole vedere il rapporto magari tra il capo e un dipendente, un rapporto familiare, magari tra due persone, quindi va bene, diciamo, in questi casi. Detto questo, veniamo all'esempio. Poniamo il caso che la domanda venga fatta da una donna di mezza età che ha appena iniziato una relazione e vuole sapere come andrà. Le carte che emergono in questa stesura sono il diavolo, la torre e la luna. La prima carta rappresenta la persona con la quale la consultante si deve rapportare, in questo caso il fidanzato, il nuovo compagno. La seconda carta rappresenta la consultante e la terza carta rappresenta la situazione in cui si trovano con un possibile esito che però è nell'immediato futuro, quindi la situazione presente o nel futuro immediato. Il diavolo è una carta che ci parla di istinto primordiale, di passioni, di tentazioni, di oscurità, di inconscio. È una carta abbastanza ambigua, però è una carta che non nasconde, crea un po' di scompiglio, di disordine, accordi che magari possono avere un esito negativo. La carta della luna evidenzia una spiccata sensibilità, una ricettività, è l'arcano della femminilità, una sensazione, un'intuizione, un'interiorità, ma anche delle paure nascoste e delle falsità. E la carta della torre invece rappresenta un rischio di crollo, di fine, di pericolo, però a volte può essere anche una rinascita, un cambiamento sconvolgente, coinvolgente. In generale rappresenta una chiusura, ma non totale, perché comunque c'è qualcosa che emerge, lo vediamo nella parte superiore della torre, magari un qualcosa che è stato chiuso e che poi viene tirato fuori. Quindi da questa stesura noi possiamo vedere che questo nuovo compagno è comunque una persona che le suscita molta passione, molte tentazioni, sicuramente una persona molto materiale, anche un pochino avida. Quindi noi da questa stesura possiamo dedurre che questo nuovo compagno è una persona passionale, è una persona che riesce a sedurre questa donna, però ci sono anche delle tentazioni un po' oscure, quindi questa donna si sente un po' come se ci fosse dell'ambiguità. È una persona sicuramente materiale, un po' avida e che ha creato un grande scompiglio nella sua vita. In seconda posizione c'è la luna che rappresenta la donna e quindi vediamo come lei sia sensibile, ricettiva, quindi accoglie tutte queste cose e questo scompiglio che lui è stato in grado di creare lei lo sta assorbendo proprio tutto. È una persona molto femminile che ha una grande interiorità e ha molte paure, le sue paure nascoste sono quelle che lui possa essere una persona falsa. E poi la situazione di coppia, quindi l'immediato futuro, la situazione presente è la torre, quindi c'è un rischio di crollo, c'è il rischio che questa relazione in qualche modo finisca male, c'è un rischio di pericolo, però c'è anche la possibilità che ci sia una rinascita, un cambiamento sicuramente sconvolgente, ma non è detto che sia negativo, c'è una chiusura da parte di lui ma non è una chiusura totale, c'è qualcosa che comunque emerge. Quindi in conclusione sicuramente non ci troviamo di fronte a una stesura positiva, una stesura bella, ci sono tre carte che comunque hanno tanti elementi negativi, però l'aspetto che noi possiamo cogliere di questa stesura è che la torre che di solito porta comunque un rischio di crollo e di pericolo crea dei cambiamenti che possono essere dei cambiamenti sconvolgenti, ma non è detto che siano negativi perché c'è la possibilità di rinascita, c'è comunque uno spiraglio di apertura e lì noi ci possiamo attaccare per dare speranza quindi in linea di massima non è una storia che magari vediamo troppo rosea ma non è detto c'è la possibilità che magari qualcosa di buono succeda quindi la persona potrebbe cercare di prendersi un po' di tempo cercare di capire meglio chi è la persona con la quale si sta rapportando e poi agire di conseguenza quindi sicuramente non è una bella storia in cui possiamo dire che va tutto bene tutto rose e fiori però se lei ci tiene tanto ci sono comunque delle possibilità di valutazione mettiamola così quindi per comunicare alla persona questa stesura partiamo dalle cose positive quindi diciamo che questa persona è passionale è stata capace di creare dentro di lei un cambiamento sconvolgente ha dato comunque una nota frizzantina un po' di peperoncino quindi sicuramente non è negativo poi diciamo però che deve fare attenzione perché è una persona un po' oscura una persona tentatrice avida materialista quindi deve tenere gli occhi aperti e detto questo concludiamo con qualcosa di nuovo di positivo quindi diciamo legandoci alla torre che questo rischio di crollo di fine di questa storia non è detto che necessariamente debba avvenire perché magari ci può essere una rinascita ci può essere un cambiamento positivo oppure magari la storia finisce semplicemente perché questa persona si rende conto che non ci sta bene e quindi decide di dare una svolta alla sua vita e di avere una rinascita individuale quindi non è detto che vada a starci male e a soffrire queste sono ovviamente delle linee guida prendetele come tale però è un esempio di come potreste comunicare alla persona una stesura negativa spero di esservi stata utile di aver fatto un video magari un po' diverso dal solito ma comunque di avervi fatto riflettere magari sul modo di comunicare determinate cose quando fate le stesure con i tarocchi io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto vi mando un bacio enorme metto